attraversamento mattutino ma te devi andare dall'altra parte così così in pianura ma che potenza di braccia? potenza di braccia atomica che potenza potenza nei bracci voca 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 ull'amore e poi remi indietro oppure no ma remi come sei capace Matteo ma teo remi come sei capace dai meglio di te non fare come dico gli altri fai come credi improvvisa improvvisa non devo stare lì a seguire i consigli così così ti vedo già bene bravo Matte bravo Matte non c'è bisogno no no non c'è bisogno di metterlo giù così tienilo no Matte tienilo proprio a pelo fai uguale dai adesso cominci a andare dall'altra parte eh guarda guarda che scioltetta diremata fluida guarda che è remata fluida guarda che è remata fluida devi girare il motore devi girare no devi girarlo si si e so come cazzo fai ieri l'ha girata eh si eh devi girare oggi è la puntata più bella ma no ma ieri pronte caro pronte ce la fa ma scusa la barca l'ha legata si si beh meglio è mia no che l'ha legata no sembra che era messa così partito c'era un po' di abbondanza nella cosa nella molla caronte sta arrivando il traghettatore io mi sono disfatti guarda come è soddisfatti guarda questi sono estremi ti fitte davanti nella buca ti fanno giù 10 euro testa per il pochino sono mia napoli che tutti mal fidenti eravate tutti sfiduciati hai partito benissimo che sembrava Carmine a bagnare hai capito fra un po' spegni perché arrivi con l'abbrivio se no arrivi troppo veloci spegni e tra un po' spegni 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 no rallenta rallenta che cosa spinta che c'ha spegni monta su fin qua no non è che una gallea romana giralo giralo spegni giralo giralo frena no 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 va bene va bene va bene ma guarda che va forte ma no guarda che sembra ma arriva con una arriva arriva va bene va bene arriva forte secondo me è troppo forte no va bene va bene no è troppo forte hai spento hai spento si troppo forte non è va forte no figa se va forte no o meno figa va fortissimo Sì, ma se si incastra, dobbiamo... Non è stato un attracco dei migliori, diciamo. Diciamo che se il pilota dell'aereo che ci porta a casa fa un atterraggio così, ti chiedo. Aspetta, scastralo un po', vai indietro, senza macchine, vai indietro. Grazie. 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 Grazie.